Ma perché? Come mai? Ma perché? In cucina non ci entro mai. Eh? Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino! Fai assaggiare un pezzettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle ande? No, bovino della gallura? No, ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Eh? Bello questo vino! Vino di una volta! Fai assaggiare un gocciettino? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà! Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà! Ma che bontà! Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle langhe? No! Aleatico dell'elba? No! Ma che cosa sarà mai questa robina qua?